Ciao a tutti ragazzi, io sono Roberto Stilton, come vedete vi ho mostrato la mia voce e oggi siamo con... Cobdo! Ciao bella ragazzi, a 100 iscritti c'è una sorpresa e spacchettate di mi piace. Dobbiamo arrivare di minimo a 100 like. Non funzionerà mai Cobdo! Vabbè Disney, vabbè lo fa per copiare gli altri youtuber. Ma quando mai, copione, che hai fatto tutti i video, che copi tutti gli altri youtuber? E vabbè me lo fanno tutti, ma perché lo dici sul mio canale? Dillo off camera! No devo dirlo, off camera! Vabbè però, capito in modo miglio. Guardi tu che manco ho visto tutti i miei video. Però, me l'hai detto, off camera. Sì, off camera. Mamma mia che schivata! E mi sono qualificato! Ora andiamo a vedere Cobdo. Ma ti chiami solo Cobdo? Ah ok, ti avevo visto. Ti avevo intravisto. Mamma mia no! Sono in cielo ora. Ma dove stai? No, non ti trovo! Mamma mia! Mamma mia! Sì no, assisto. Vabbè, allora assisti a me, alla mia mitica partita, alla mia mitica performance. Ok. Raga, abbiamo fatto un taglio perché è durato un bel po' e siamo nella mappa, Robby. Quale mappa? Come capo si chiama? Vabbè questa qua. Eh? Vabbè raga. Ma tu non l'avevi perso? Sì ma ti sto aspettando. Va bene, bravo. Aspettando se per chi non lo sapesse significa che lo sto guardando. Vabbè, intanto parliamoci. Ciao. Ciao Cobdo. Vabbè, no no. Allora, a 100 iscritti, come vi ho detto prima, c'è una sorpresa. E questa sorpresa... Che non so neanche se raggiungerò mai 100 iscritti. Sì. Perfetto. Perciò raga, se vedete sto video, per favore iscrivetevi per supportarci. Io ho mai detto iscrivetevi, perché secondo me la gente che lo fa, lo fa solo per soldi. Però tu capi i tizi, quindi va bene. No, Robby, perché tu non hai il fatto abbonati. Vabbè, non fa niente. Vabbè, se guardate sto video supportateci, ma anche per un fatto che è di curiosità, perché a 100 iscritti vi diremo una cosa nostra. Oh, ok, se lo scivolo, io adoro il scivolo. Ok, raga, abbiamo fatto sempre un taglio quando si selezionano le mappe. Ah, no, io faccio caduto. Facciamo un taglio, perché, cioè, poi il video è troppo lungo e ci scade. Eh. Eh, raga, ora Robby è uno scarsone, comunque... Ma che sta a dire? Tu sei stato eliminato e io invece sto ancora in gioco. A parte che io ho dieci coppe. Ma sto a dire che ho dieci coppe, tu ne hai due. No, no, raga. No, no, di corone, io ne ho dieci, tu ne hai due. No, no, raga, scherzo. Lui ha dieci coppe e io ne ho due, ma soltanto per il motivo che l'ho ristallato oggi. Sì, perciò, cioè, soltanto per questo. Ah, ho perso. Vabbè, non fa niente. Porto con onore questa perditenza. Italiano corregiuto. Vabbè. Vabbè, ciao a tutti i ragazzi da Roberto Stilton e... Cobda. Ciao, ci vediamo in un prossimo video. Vabbè, ciao a tutti i ragazzi.